Cassonetti stracolmi ad ogni angolo delle strade, cumuli di immondizia che fanno bella mostra di sé al centro come in periferia. Non è certo uno spettacolo edificante quello che si presenta ai cittadini e ai visitatori e si recano a vittoria. Siamo in piena emergenza rifiuti e per il vice sindaco Enzo Cilia per fronteggiarla bisogna agire su due livelli. Avviare le procedure per la raccolta differenziata e agire nell'immediato intervenendo all'interno della stessa Amio e se questa è priva di mezzi per raccogliere rifiuti occorre che si appoggi ad una ditta privata. Sicuramente occorre prendere di petto questa situazione, siamo in emergenza e bisogna rispondere con misure emergenziali. Ci sono due livelli di questione, uno che riguarda la possibilità di avviare finalmente in maniera urgente e immediata la raccolta differenziata. Il comune di Vittoria da mesi è pronto, aspetta solo l'autorizzazione da parte del lato Ragusa o la possibilità di partecipare al lato CL2 col progetto sperimentale. Abbiamo fatto già una riunione il 2 maggio e abbiamo preso atto che il lato Ragusa ha dato la propria disponibilità ad avviare l'appalto. Nello stesso tempo lunedì faremo una riunione alla presenza della regione per vedere a che punto è il progetto sperimentale e quindi se nel caso ci danno il via libera immediatamente possiamo partire. Ma al di là di questo, l'altro livello che è quello dell'emergenza, io penso in questa fase bisogna immediatamente assumersi ogni responsabilità e intervenire in modo emergenziale. Non credo che l'AMI sia nelle condizioni con i propri mezzi e con i propri uomini di affrontare questa questione. Quindi anche tramite l'AMI bisogna immediatamente avvalersi di ditte anche esterne che abbiano la possibilità di intervenire nel modo più risoluto possibile. Quindi in questi giorni avvieremo, credo, assieme al Sindaco, tutte le possibilità per risolvere in maniera definitiva questa questione.